Una donna di 38 anni, residente a Catania, madre di due figli, è stata trovata impiccata nel bagno di una casa di villeggiatura che aveva affittato con il compagno a Fondachello una frazione di Mascali, siamo in provincia di Catania. Il corpo della vittima sarebbe stato trovato in bagno con un indumento attorno al collo attaccato ad un appendiabiti da uno dei figli. La donna presentava ampie ecchimosi che non sarebbero state causate dalla presunta impiccaggione. Pare che la vittima avesse avuto una lite con il compagno la sera precedente, il quale aveva poi lasciato l'abitazione. L'uomo è stato ascoltato come testimone dei militari e dal sostituto procuratore di Catania. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giarra che insieme al gruppo sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Catania stanno conducendo le indagini. La casa è stata trovata in ordine, non è stato rinvenuto alcun possibile messaggio di addio lasciato dalla donna e l'immobile è stato sottoposto a sequestro. Il corpo della donna è attualmente a disposizione dell'autorità giudiziaria. Maggiori indicazioni potranno emergere dall'autopsia qualora la procura decidesse di disporla.